ben tornati sul canale youtube di round 2 prosegue il coverage del tokyo game show e oggi vi parliamo di un prodotto italiano che insomma è stato bello scoprire e anzi riscoprire qua al tokyo game show il team ha deciso proprio di mostrarsi al pubblico in questa occasione e non solo ha anche annunciato il nome definitivo di questo progetto che fino ad oggi era noto come project galileo se ne è parlato molto anche perché è un souls sviluppato e ambientato diciamo in italia in una versione comunque un po fantasiosa della nostra penisola adesso invece il nome e notria the last song da una parte insomma c'è questo nome che è un nome tradizionale che è quello della penisola italiana come veniva chiamata la penisola italiana in tempi antichissimi mentre il the last song ha una connotazione legata proprio alla mitologia del del prodotto che poi andremo a raccontarvi anche parzialmente in questa anteprima la cosa particolare era che il team si è presentato qua con una alfa anzi una pre alfa s giocabile e l'ha addirittura messa nelle mani degli avventori del tgs quindi non solo della stampa ma anche del pubblico ed è una cosa stravagante se pensiamo a come viene fatta comunicazione in questo settore perché di solito il pubblico è molto abituato a entrare in contatto con il prodotto in un periodo molto vicino a quello dell'uscita insomma quando le demo sono già abbastanza rifinite sono pezzi di gioco completo o quasi vogliamo ribadire che non è così in questo caso il team ha davanti ancora diversi mesi di sviluppo e di affinamento del prodotto loro puntano al 2023 come data d'uscita ma non metterei la mano sul fuoco sul fatto che possano riuscire perché il gioco è ancora da ripulire in diverse meccaniche o diversi diversi elementi che sono proprio centrali quindi tutte le impressioni sono preliminari e anche quando guardate magari il materiale che è stato diffuso dal team jama games tenete bene a mente che si tratta davvero di un modo di presentare il prodotto un po' atipico diciamo che loro hanno lavorato a questo progetto fisicamente in produzione da circa un anno il risultato comunque sicuramente ragguardevole si tratta tra l'altro diciamolo esplicitamente perché lo hanno confessato loro di una produzione doppia quindi è chiaro che anche nel fare dei raffronti che peraltro sono espliciti nel senso che le loro fonti di ispirazione sono quelle però sono quelle ma con dei mezzi produttivi chiaramente diversi e con un expertise diverso cioè uno dei loro primi giochi hanno lavorato a qualche piccolo esperimento mobile ma mai a nulla con questo tipo di concretezza diciamo però una cosa appunto che nell'anomalia di presentare un prodotto in questo modo secondo me loro hanno voluto presentare una fascinazione che c'è che esiste che è oggettiva dal punto di vista estetico dal punto di vista dell'atmosfera che adesso andremo a raccontarvi forse hanno un po' richiesto diciamo un piccolo atto di fede in termini di gameplay e su questo io invito a andare molto coi piedi di piombo nel senso che se da un lato ci sono cose che vi racconteremo ci hanno convinto decisamente parecchio dell'ambientazione del mondo ma in generale della proposta di jamma games da un altro sono presenti in un titolo che diciamo al momento come progetto è appunto una pre alfa quindi con tanto 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 lavoro ancora da dedicare al progetto ci sono delle lacune che però sono pesanti perché legate a degli aspetti costitutivi nello specifico il sistema di combattimento ad esempio manca completamente di impatti collisione di quella sensazione di pesantezza che è fondamentale direi in un action ma che diventa proprio indispensabile in un source life in cui diventa difficile portare a segno il colpo ma quando lo fai devi sentire tutta la pesantezza dell'impatto devi distinguere le varie armi e devi avere proprio questa sensazione di soddisfazione nell'interazione così di guerra contro un nemico che attualmente manca in toto loro ci sono detti in maniera molto onesta e molto trasparente consapevoli di questa cosa io tra l'altro avevo visto già il gioco a porte chiuse sei mesi fa vi posso dire che in questi sei mesi da questo punto di vista non sono stati fatti passi avanti già sei mesi fa ora mi avevano detto sì sappiamo che dobbiamo lavorare a questa cosa ci sta che non ci si siano ancora dedicati attenzione però perché poi il tempo stringe e soprattutto è davvero un elemento fondamentale mentre nel gioco abbiamo visto per esempio delle cose di contorno eccezionali infatti io credo che in questi sei mesi anche insomma sentendo quello che loro raccontavano si siano focalizzati proprio sulla produzione di livelli macro aree nemici e devo ammettere che da quel punto di vista secondo me stanno facendo delle buone cose sia dal punto di vista del level design proprio strutturale quindi con le scorciatoie la planimetria appunto di queste aree di questo polgo medievale che abbiamo visto esatto sia dal punto di vista delle atmosfere perché il gioco è squisitamente italiano anche proprio nel look è un gioco solare con dei colori sicuramente molto più sparati e accesi rispetto a quelli che di solito invece animano le produzioni souls like che portano avanti quest'idea del dolore qui l'idea del paludamento è utilizzata in una maniera un po' diversa l'idea di questa stasi perché sostanzialmente a livello di racconto di fatto noi ci troviamo all'interno di un mondo che è bloccato su se stesso sostanzialmente c'è un canovaccio quindi una sorta di sceneggiatura una rappresentazione teatrale tutto il gioco sembra essere una allegoria anche proprio esplicita nei toni e nei modi con le maschere, con i personaggi la città si chiamava quinta come le quinte di teatro esatto e praticamente questo mondo ripete all'infinito questo canovaccio l'obiettivo ovviamente del giocatore o meglio del personaggio che il giocatore interpreta è quello di rompere questa stasi e poi portare il mondo ad una nuova fase che tematicamente insomma se avete giocato i Dark Souls è proprio l'ABC l'ABC esatto però poi dicevo è molto bello e affascinante anche proprio tutta l'atmosfera i colori, le scene, l'impatto, i panorami si vede che ci sono dei panorami marittimi ed è mare italiano si vede che la vegetazione la vegetazione esatto i dettagli parlano la nostra lingua le architetture sono alla stessa maniera riprese dai borghi medievali che possiamo trovare lungo tutto lo stivale e è italiana anche la caratterizzazione di alcuni elementi per esempio gli status alterati sono legati all'elemento della grazia scritto gratia come in latino che è l'elemento del sacro o addirittura all'elemento del vino che è un po' l'elemento dell'ebrezza quindi secondo me hanno fatto un grande lavoro di caratterizzazione citiamo anche in questo senso la colonna sonora hanno utilizzato degli strumenti d'epoca anche complessi da ricercare mi raccontavano e secondo me questa cosa si sente nel senso che ha un'unicità, una personalità, un carattere che sono molto fuori dal comune e secondo me a livello commerciale si trova in una posizione interessante perché se per un italiano c'è grande familiarità con la materia trattata cioè c'è Pulcinella rivisitato uno dei personaggi con cui tu interagisci e che quindi tu riconosci nel tuo folklore per tutti quelli che invece vivono all'estero e penso in particolare ai giapponesi che sono lontanissimi da noi culturalmente e a livello geografico ma anche molto affascinati della nostra penisola e beh questa cosa rappresenta un esotismo potentissimo così come noi per esempio amiamo perderci tra gli Ioni e i personaggi strani di Sekiro, Nioh eccetera eccetera e qui per loro è un po' il corrispettivo hanno lavorato molto bene secondo me anche proprio sulla caratterizzazione sulla scrittura in generale o sulla caratterizzazione delle interfacce c'è un sistema di potenziamento del protagonista che ricorda un po' un grande rosone ci sono alcuni elementi come per esempio le abilità attive che in realtà si chiamano battute lines perché è come se tu rubassi un po' le battute degli avversari che sono appunto costretti a ripetere e ripetere costantemente le azioni la presentazione teatrale quindi secondo me hanno lavorato molto bene puoi citare anche un dettaglio sempre piccolissimo però mi ha davvero molto colpito quando vai all'equivalente del falò hai questo effetto di mondo che si perde in una specie di limbo in cui vedi proprio la città per esempio che è lì renderizzata di fronte a te in 3D che diventa un limbo vuoto e con anche l'audio che viene come risucchiato e resti sospeso in questa dimensione vacua fatto molto bene sia a livello scenografico che proprio a livello di audio design cioè mi ha molto stupito e colpito quanta cura ci sia in alcuni elementi secondari e al tempo stesso però quanto manchino delle componenti che sono proprio fondanti per l'esperienza sì sono d'accordo quando si arriva a parlare di gameplay ogni considerazione insomma deve venire a patti con il fatto che alla fine mancano veramente delle cose anche la pulizia delle animazioni le reazioni degli avversari c'è veramente poco di concreto anzi in tanti aspetti sono abbastanza manchevoli se volessimo dare però insomma una suggestione a livello ludico potremmo puntare il dito su una meccanica che sembra centrale nell'economia del gioco che è quella dell'ardore sostanzialmente il protagonista può a piacere entrare e uscire in questo status da questo status di ardore e a seconda che si trovi in ardore o no cambiano un po' di cose per esempio quando non è in ardore riesce a ricaricare le abilità attive però per poterle utilizzare magari si tratta di colpi particolari un colpo di balestra degli attacchi potenziati per poterle utilizzare deve entrare in ardore alla stessa maniera alcuni nemici e soprattutto i boss hanno una meccanica per cui se vengono colpiti mentre non sono in ardore si carica sostanzialmente una barra che poi permette entrando in ardore di fare danni aggiuntivi fra l'altro l'uscita invece da questo status insomma di foga anche attoriale perché di fatto di quello si tratta è una furia sì una furia è un grande pestone che riesce a stordire gli avversari quindi può essere utilizzato anche in combo sostanzialmente e entrando e uscendo da questo status si cambia anche il loadout quindi quando si riposa al falò sostanzialmente è possibile proprio selezionare un'arma che si materializza in ardore e un'arma invece classica e insomma cambiare anche così il moveset sì sì è una dinamica molto particolare tra l'altro sempre legata all'ardore ci sono anche delle interazioni si intravedevano nella demo con il mondo di gioco per esempio arrivati a un certo punto per entrare in questo borgo medievale un po' stile San Gimignano il ponte che collegava una zona all'ingresso di questa cittadella era crollato entrando in ardore e interagendo con un particolare altare era come se tu tornassi indietro nel tempo e vedevi proprio il ponte che si ricostruiva da lì in poi potevi passare quindi meccaniche anche legate proprio all'event design un po' da scoprire che però sembrano effettivamente esserci guarda chiuderei parlando proprio del boss che abbiamo affrontato alla fine diciamo l'equivalente dei lord nella mitologia di Dark Souls che secondo me anche quello è proprio esplicativo di tutto il discorso che abbiamo fatto come se fosse un riassunto perché da una parte c'è questa enorme creatura che è estremamente affascinante perché è sostanzialmente un personaggio bloccato all'interno di un banchetto che a furia di gozzovigliare sostanzialmente con il vino ha finito quasi per mangiare se stesso o forse rigurgitarsi c'è questa grande creatura dalla cui bocca esce una copia di essa stessa molto grottesca e ben riuscita tra l'altro in questa specie di anfiteatro cioè a livello è un carnevale malato che sicuramente fa il suo effetto poi tra l'altro ti lancia appunto queste bocce di vino che lasciano delle chiazze a terra tra l'altro una cosa che non ho detto prima è che quando sei in ardore tu puoi assorbire degli elementi e infonderli appunto nell'arma che stai portando quindi è possibile recuperare in quel caso il potere del vino e fare del danno extra nel suo caso in realtà è meglio non recuperarli perché lui è resistente al vino esatto però ecco se scenicamente questa battaglia è estremamente riuscita poi da giocare non è assolutamente piacevole proprio perché mancano le reazioni proprio perché le sue animazioni ti permettono quasi di non schivare nemmeno gli attacchi e muoverti circolarmente attorno a lui un po' alla maniera di Dark Souls 2 insomma non è proprio uno scontro ludicamente piacevole e quindi la nostra speranza sostanzialmente è che da questa prova preliminare insomma il team raccolga un po' di feedback e ne faccia tesoro e si metta a lavorare in maniera molto concreta proprio su questo aspetto perché secondo me la cornice e anche il colpo d'occhio ci sono sono d'accordo ci sono mancano degli elementi che faranno o disferanno lo stesso in otria aggiungo una piccolissima cosa proprio in chiusura io mi auguro che si prendano anche il tempo che serve perché stanno facendo qualcosa di difficile qualcosa di complicato abbiamo visto che è davvero complesso replicare la formula che FromSoft era riuscita a mettere in piedi serve anche la capacità di dire ok magari mi prendo sei mesi in più perché la data d'uscita per ora è fissata al 2023 e credo siamo tutti due d'accordo nel pensare che per quello che abbiamo avuto modo di vedere da vicino possa essere un'indicazione un po' ottimistica vediamo vediamo grazie mille per averci seguiti in questo contenuto insomma che è incluso all'interno del coverage del Tokyo Game Show 2022 vi ricordiamo di iscrivervi al canale perché vi parleremo di altri giochi che abbiamo provato sullo show floor e non solo ciao